Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Feri ASMR grazie per aver scelto questo video ASMR rilassante oggi sono qui per trascorrere qualche minuto in vostra compagnia e raccontarvi alcune cosine quindi quello che state per guardare sarà un video chiacchiericcio in whispering quindi con questo tono di voce sussurrato che so che vi piace tanto 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 e faccio un video chiacchiericcio soprattutto perché è un po' che non vi faccio vedere qui sul canale ma prometto vi spiegherò tutto in questo video tutto quello che ti chiedo di fare è indossare le cuffie oppure gli auricolari per ascoltare meglio la mia voce e distenderti scegliendo un posto comodo e ovviamente se non sei ancora iscritto oppure iscritta al mio canale puoi farlo qui cliccando il tasto iscriviti e naturalmente attivando la campanellina per non perdere i prossimi video rilassanti detto questo direi di iniziare intanto c'è anche Jesse che vuole farsi vedere e ci delizia con le sue fusa non so se sei riuscita a sentirlo allora partiamo subito con una big 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 news che voglio darvi intanto vi consiglio di aspettare fino alla fine del video per ascoltare anche i saluti perché questo è un video chiacchiericcio quindi come in ogni video chiacchiericcio che si rispetti saluterò 5 persone a caso tra quelle che me lo hanno richiesto negli scorsi video e più anche l'ultima notifica di Instagram quindi aspettate fino alla fine ma intanto devo assolutamente darvi questa notiziona ovvero che ho iniziato a fare streaming quindi a fare delle dirette, delle live anche su un'altra piattaforma che è quella di Pico Pico Live e vi lascerò qui se riesco il codice QR da poter scannerizzare mettete in pausa il video nel caso e per poter accedere direttamente al mio profilo comunque anche lì mi chiamo Ferry ASMR quindi molto facile e ho deciso di iniziare a fare un po' di live anche lì su Pico dove non parlo in modalità ASMR ma mi esprimo proprio al top della mia voce perché sapevo che in questo periodo sarei stata forse un po' meno presente sul canale YouTube a causa di alcune cose che già sapete però allo stesso tempo non volevo abbandonarvi e volevo anche avere il piacere di condividere con voi questo periodo della mia vita è un periodo di grandi, 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 grandi grandi, grandi, grandi grandi cambiamenti che si sta rivelando difficile ma al tempo stesso pieno di belle sorprese e alzerei un po' il microfono e l'inquadratura perché mi sa che così non mi vedete non mi sentite bene ok? tanto c'è sempre l'orecchio di Jessie qui dunque sicuramente molti di voi sanno che sto cambiando casa e nei giorni scorsi vi ho resi partecipi proprio lì subito andatemi a cercare comunque della mia avventura con gli scatoloni da riempire non è semplicissimo devo essere sincera ma sono un sacco emozionata perché tra pochissimi giorni a ottobre mi trasferirò in questa nuova casa stavolta sarà una casa tutta mia anche se non acquistata però abiterò lì da sola con Jessie e e sono proprio contenta di poter gestire proprio tutto 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 da sola insomma venitemi a dare supporto su Bigolive perché per ora mi sto trovando molto bene mi sto anche divertendo tanto e ho scoperto che ci sono un sacco di persone simpatiche sulla piattaforma che mi stanno anche aiutando un po' però se venite a darmi supporto sicuramente posso continuare a fare streaming e a condividere altri momenti della mia vita anche in futuro e spero davvero che sia così sto cercando di attrezzare la nuova casa nel miglior modo possibile per fare video sostanzialmente c'è sì piccolino ma è tante foto poi un'altra cosa che volevo dirvi è che ho dei regalini da mostrarvi e ve li mostro con enorme enorme piacere allora il primo set di regalini tra cui c'è anche questo orecchino a cerchio con gli strass e il pendente a forma di palma azzurra me lo ha inviato una ragazza che si chiama Eleonora e ha questa pagina instagram che si chiama chic creations e f Eleonora ti ho scritto questo bigliettino vi consiglio di andare a visitare la sua pagina perché fa delle cose veramente carine un altro orecchino che mi ha inviato è questo sempre scusate le unghie ma devo rifare la manicure come si potrà intuire sempre con gli strass e sempre con il pendente questa volta a forma di luna con dei brillantini neri e io solitamente lo sapete non porto gli orecchini anzi vorrei veramente a volte eliminare questi buchi dai lobby però quando li indosso comunque preferisco che siano molto particolari e questi assolutamente lo sono come potete vedere e poi c'è il top del top e a jessi piacerà molto questo elemento che è questa collanina con un pendente a forma di fatina lo trovo meraviglioso anche indossato e vi ho mostrato delle foto su instagram andate a controllare perché ci sono queste foto nell'ultimo in uno degli ultimi post e spero che andiate a dare anche un'occhiata alla pagina di questa ragazza non è una collaborazione a pagamento questa ci tengo a sottolinearlo ma semplicemente una mia volontà di parlare di questa pagina insomma perché questa ragazza mi ha fatto veramente un bellissimo regalo e sono strastracontenta questo lo vorrei indossare tra l'altro però mi sa che c'è sì che c'è amore a già si piace e vorrebbe mangiarla ma non è il caso non è il caso capito bene poi altra cosa in molti mi state scrivendo come faccio a ordinare il diario agenda smr che è praticamente finito ovunque anche su amazon ragazzi è il riassortimento perché in pratica sta andando a quanto pare molto bene e quindi appena riforniscono subito finisce quindi quello che vi consiglio è di fare comunque l'ordine se lo desiderate e di metterlo nel carrello o se non è possibile aggiungerlo comunque alla wishlist in modo da ricevere la notifica immediatamente appena tornerò disponibile e comunque il tempo tecnico è di pochi giorni mi hanno spiegato che a inizio ottobre già sarà nuovamente disponibile però per evitare che finisca nuovamente se volete assicurarvi la vostra copia ordinate su amazon dove vi ricordo è acquistabile anche con il bonus cultura io ho compilato proprio pochi giorni fa insieme a voi le prime pagine e ho continuato a scrivere 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 su questa netta come sicuramente immaginate sono molto molto contenta oggi è il giorno giovedì 24 e vi voglio leggere l'aforisma o meglio il pensiero felice dedicato alla giornata di oggi dice le cose davvero importanti sono raramente urgenti e le cose urgenti sono raramente davvero importanti le cose poco importanti diventano urgenti per la mancanza di pianificazione questo è un aforisma di Dwight Eisenhower io la sto personalizzando con degli adesivi questa gente e mi sto trovando veramente molto bene quindi mi raccomando se la volete anche voi non esitate a fare l'ordine poi 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 sempre qualcosa che riguarda la cartoleria vi voglio mostrare un segnalibro che ha realizzato per me la mitica Sara di ASMR Sara vi lascio giù nell'info box la sua pagina dedicata alle creazioni perché lei è un'illustratrice oltre a fare video ASMR su Youtube e ci siamo viste per chiacchierare un pochino e lei mi ha regalato questo bellissimo 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 segnalibro con una fata seduta su un fungo che guarda la luna è bellissimo meraviglioso fantastico sensazionale non ho parole per descrivere la bellezza di questo disegno che non so ancora all'interno di quale libro collocare sinceramente tra l'altro Sara si è ispirata ai colori dell'immagine e il mio canale per realizzarlo quindi grazie Sara ti mando un bacio gigante e anche gesti se volete dei segnalibri personalizzati o altri lavoretti su commissione lei è davvero molto brava e vi lascio appunto come dicevo prima la sua pagina Instagram dedicata a questi lavori e basta mi sembra bene adesso vorrei concludere il video chiacchiere di oggi salutando appunto le 5 persone a caso che ho scelto tra quelle che me lo hanno richiesto negli ultimi video e l'ultima notifica di Instagram allora saluto Orsetto Inter 1908 Daphne Romano Silvia di Gregorio Salvo G.R. di Micheli Lutovica e ultima notifica di Instagram Jennifer Tonfrancesco ciao ragazzi grazie per avermi lasciato pensieri felici vi ricordo se volete essere salutati anche voi lasciate un commentino qua sotto chiedendomelo e nel prossimo video chiacchieriggio saluterò altre 5 persone detto questo mi raccomando venitemi a seguire anche su Pico il 29 tra l'altro c'è un live house quindi una sfida ufficiale in diretta venitemi a supportare se vi va e basta vi lascio tutti i riferimenti giù nell'info box mi raccomando date un'occhiata sempre alla descrizione e noi ci vediamo se vi va nel prossimo video bacini fatosi qui c'è un live house